Il mio gruppo Facebook Bitcoin Italia aperto e senza scam ha superato i 5.000 iscritti. Pensate che solo un mese fa erano 4.000 quindi nell'ultimo mese si sono aggiunte ben 1.000 persone. Oltretutto essendo un gruppo che ho creato a luglio, quindi pochi mesi fa, 5.000 iscritti sono davvero tanti. Se volete iscrivervi vi metto il link in descrizione così potete iscrivervi a partecipare alle numerose discussioni che facciamo. Un saluto, ciao!